Sono stato censurato, non me lo aspettavo. Mi dispiace per tutti voi. È lo sfogo di Fabrizio Corona dopo l'attesa e chiacchieratissima intervista sul calcio scommesse andata in onda ieri sera su Rai 3 ad Avanti Popolo con Nunzia de Girolamo. L'ex re dei paparazzi continua amareggiato. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da sei giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? Corona lo scrive in un post sul suo account Instagram. C'era la voce di Zagnolo e di tre giocatori di Serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il C asterisk 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 voi e hanno preso per il C asterisk 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 me.